La firma Cizzetta ha 35 anni, è basata in Italia e produciamo piacere, piacere, piacere e piacere. Sono soddisfatto con queste riunioni e cercando di partecipare anche in altre missioni. Nel sito c'è un calendario di business calendar che tutti possono consultare. Quindi scegliere quale è la missione che potrebbe essere più interessante per la firma. E faccio questo e credo che puoi scegliere la tua missione according a i prodotti, al mercato e anche con la helpa del staff.